Signor Sindaco, dopo tanto questo nuovo porto turistico di 20 miglia fa intravedere una luce in fondo al tunnel, possiamo dire così. Ormai il pigio dovrebbe essere passato, la conferenza di servizi ha dato il via lì per la variante. Sì, questo è quello che ci auguriamo tutti. È stato un lavoro molto lungo, molto complicato, anche perché data l'importanza del soggetto di cui si trattava ci sono volute particolari attenzioni. È un processo però che sembra essere a termine e oramai dal punto di vista amministrativo si è fatto tutto quello che si doveva fare e ora attendiamo la firma tra i privati, che vorrebbe dire un passaggio di proprietà. Un passaggio di proprietà che naturalmente 20 miglia spera possa dare un futuro concreto a questa grande struttura che può rilanciare il territorio. Senz'altro, questa è una delle più importanti opportunità che abbiamo sul nostro territorio, va accolta. Se effettivamente si dovesse realizzare, come tutti ci auspichiamo, sia il passaggio o quindi il subentro della società monegasca, questo darebbe insomma grandi prospettive a 20 miglia. Una prospettiva di guardare anche la vicina Francia con maggiore attenzione al Principato di Monaco, insomma a rendere questo territorio ancora più uniforme. Sì, senz'altro. Poi sarebbe la più grande operazione di marketing degli ultimi anni perché noi porteremo un pezzo di Monte Carlo da noi. Quindi visto con questa lente è evidente che ci sono ancora più prospettive, si intensificano i legami e da un certo punto di vista 20 miglia diventa ancora più di frontiera ma molto più internazionali in senso positivo.